Al via i lavori per l'efficientamento energetico e per il miglioramento sismico in 5 palazzine di via Caduti per servizio nel quartiere Fontanelle. I fondi finanziati dal PNRR ammontano a 3 milioni 190 mila euro. Saranno rifatti i tetti, saranno sostituite tutte le caldaie con le caldaie di nuova generazione a condensazione e gli infissi, che saranno degli infissi monoblocco doppio vetro in alluminio, in metallo. E già questo, chiaramente la manutenzione a tutte le opere, la tinteggiatura esterna ad alcuni e anche un aggiustamento sismico ad una palazzina che ha da controlli fatti qualche problema. Gli interventi saranno eseguiti su 280 appartamenti, la fine dei lavori è prevista per aprile 2024. Dedicare progetti di PNRR a opere importanti. E io devo dire che il Comune di Pescara ci sta riuscendo, perché stiamo cercando di migliorare tutte le nostre strutture riqualificanti sia da un punto di vista sociale che edilizio. Voi conoscete il territorio, ne conoscete anche le problematiche, tra l'altro, degli ultimi giorni, che sono delle problematiche purtroppo di ordine pubblico, dove il Comune però sicuramente sta facendo il suo. Abbiamo effettuato degli sgomberi, continueremo a effettuare degli sgomberi per chi non ha titolo, ma non c'è dubbio che parallelamente a questo ci deve essere anche una riqualificazione edilizia ed una riqualificazione sociale. Quindi stiamo lavorando su tutti i fronti ed è con davvero grande soddisfazione che posso dire e ringraziare gli uffici, perché hanno lavorato molto molto bene insieme a tutta la parte tecnica, chiaramente, per far sì che questo accadesse.